amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la palla nuoto vista da vicino continua il nostro viaggio panoramico tra le formazioni di a1 maschile che preparano i match valevoli per la quinta di andata torniamo oggi ad occuparci di ira in genova quinto e per questo è un grande piacere di avere ai nostri microfoni il centro boha del 7 di mister bittarello matteo perongini ciao matteo bentrovato ciao andrea grazie per l'invito matteo io inizio come sempre la nostra chiacchierata facendo un passo indietro all'ultimo impegno il match più difficile da dover affrontare da un certo punto di vista forse dall'altro quello più facile da dover preparare però secondo un copione che non cambia quasi per tutti l'ira in genova quinto le prende di santa ragione dalla pro recco e quali indicazioni vi ha lasciato il netto cappò contro la prima della classe ma allora la partita contro la pro recco è stata sicuramente impegnativa il nostro obiettivo ovviamente non era tanto fare punti contro una squadra di quel livello ma piuttosto continuare a lavorare sul nostro gioco migliorare su alcuni aspetti tattici utili chiaramente per le prossime partite nelle due settimane precedenti abbiamo caricato molto sia in acqua che in palestra per essere pronti chiaramente poi andare a gestire i veri impegni che iniziano per noi da questo sabato quindi in generale nonostante le tre sconfitte in queste prime quattro partite credo che questo inizio di campionato sia stato sia stata una grande opportunità per crescere e come dicevo prima per prepararci al meglio per le partite che contano davvero ora chiaramente noi siamo concentrati su su ciò che ci attende e ci aspettiamo di arrivare pronti con la giusta determinazione per affrontare meglio le prossime le prossime sfide assolutamente sfide alla portata prende ufficialmente il via il campionato dell'ira e genova quinto avrete sicuramente avuto modo di rivalutare il match insieme a mister bitarello sia la ripresa degli allenamenti che credo abbiate già anche fatto seduta video che tipo di riflessione avete condiviso in fase di analisi ma allora sabato ci aspetta una trasferta impegnativa contro l'olimpic roma una squadra comunque neopromossa ma con tanta voglia di dimostrare il proprio valore arrivano come abbiamo visto da un pareggio tenuto in extremis quindi possiamo aspettarci un avversario carico di entusiasmo e con ovviamente il morale alto noi dovremo andare giù a roma con la giusta mentalità consapevoli appunto che non ci regaleranno niente ci saranno delle difficoltà dalle quali dovremo uscire tutti insieme remando verso la stessa direzione un po come abbiamo fatto già a bologna tre settimane fa secondo me poi la partita si deciderà sui dettagli sarà fondamentale comunque mantenere la testa lucida e giocare con intensità senza cali di concentrazione ogni azione poi potrà essere decisiva quindi dovremmo avere la prontezza di sfruttare ogni occasione davanti e chiaramente poi di non sbagliare quasi nulla in difesa su quali aspetti del gioco questa squadra deve ancora migliorare per arrivare al top del suo rendimento ma un aspetto cruciale che dobbiamo sicuramente migliorare appunto la gestione dell'uomo in più in partite equilibrate come per esempio quella di sabato sfruttare al meglio la le superiorità numeriche posso fare possono fare veramente la differenza e sappiamo quanto sia importante essere efficaci in queste in queste situazioni abbiamo lavorato molto su questo nelle ultime settimane migliorando comunque il tempismo proprio per essere pronti e fare la differenza quando avremo l'occasione di giocare appunto queste superiorità numeriche assolutamente per te questo è l'anno del grande ritorno in massima serie dopo l'esordio assoluto nel mondo dei grandi sei tornato per crescere ma anche per andare a scuola da un maestro quanti molto stimolante lavorare con matteo ai cardi un totem di questo ruolo giorno dopo giorno e che tipo di difficoltà stai incontrando al tuo ritorno in massima serie ma allora sicuramente per me un sogno tornare nella squadra in cui sono cresciuto io sono cresciuto a quinto ho fatto tutte le giovanili per poi andare a giocare in a2 prima sturla e dopo due anni a chiavari ovviamente già tornare in a1 era un grande obiettivo in più se ho davanti una figura come come matteo può essere soltanto che uno stimolo in più in questi questi pochi mesi con cui appunto ho avuto la possibilità di allenarmi chiaramente ho ho imparato tantissimo ho visto cose che non avevo mai visto e chiaramente può essere fondamentale per la mia crescita poi ovvio avendo ai cardi davanti per me ci sono anche un po meno pressioni quindi chiaramente integrarmi in un campionato difficile come quello della uno può può essere un po più semplice perché chiaramente non ho pressioni di dover subito rendere perché fortunatamente c'è matteo a coprirmi le spalle la differenza che ho notato sicuramente è il ritmo la fisicità l'intensità sia difensiva che ovviamente offensiva quindi sto cercando di adattarmi credo che giorno dopo giorno settimana dopo settimana pian piano sto cercando di diminuire quello che è il gap assolutamente l'abbiamo accennato prima ti chiedo però di andare proprio nel dettaglio prossimo match trasferta nella capitale contro una training academy olympic roma che è galvanizzata dal pari acciuffato nei secondi finali contro il circolo nodico posillipo io direi che vi attende una brutta gatta da pelare che partita vedremo ce lo dici tu ma allora portare a casa i tre punti per noi è davvero importante soprattutto come dicevete in trasferta con un avversario carico di entusiasmo e ovviamente ci serve per dare continuità al nostro percorso sappiamo che ci aspetta una sfida complicata ma come dicevo prima siamo pronti a dare tutto per conquistare un risultato positivo appunto fondamentali secondo me sarà non abbassare il ritmo tirar fuori le nostre qualità quindi intensità una difesa molto molto chiusa che non concede che non ci concede quasi niente e poi chiaramente davanti dobbiamo essere cinici e sfruttare le occasioni che ci capiteranno sia uomini pari che soprattutto come dicevo prima uomo in più va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio matteo per un gini per averci fatto compagnia do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao matteo grazie ciao andrea grazie mille